Cosa vuol dire per le piccole e medie imprese italiane aprirsi ai processi di internazionalizzazione? Quali opportunità possono nascere per il Made in Italy da progetti di collaborazione con aziende straniere? Il professor Antonio Gambino, docente di strategia e politica aziendale presso l'Università Guglielmo Marconi e socio della IBS Italia, società specializzata in servizi per l'internazionalizzazione ed impresa, illustra per il magazine di Marconi Channel un caso di successo, la partecipazione italiana al progetto Destiny USA. Oggi parleremo di un progetto di internazionalizzazione di impresa che coinvolge delle strutture italiane e americane. È meglio precisare che a monte di questo progetto c'è tutto un ragionamento di carattere economico. Vorrei fare un breve accenno a quelle che sono le motivazioni che hanno spinto soprattutto direi la IBS Italia che è una società costituita appositamente per i processi di internazionalizzazione di impresa e che segue con attenzione le piccole e medie imprese italiane che in definitiva costituiscono il 92% del sistema produttivo del PIL italiano perché come ben sappiamo la parte rimanente è appannaggio di quelle poche grandi imprese. Il ragionamento di natura economica che sintetizzo ovviamente per motivi di tempo parte dall'ingresso dell'Italia nell'euro. Da quel momento noi siamo passati da un sistema produttivo estremamente elastico che era costituito e che è costituito da piccole e medie imprese. Se qualcuno ricorda si parlava di piccolo e bello, c'era questo detto. Perché bello? Perché con grande facilità si adattava alle mutazioni del mercato internazionale in quanto le piccole e medie imprese sono caratterizzate da questa peculiarità cioè quella di adattarsi essendo estremamente flessibili alle mutazioni dei mercati internazionali. Ma a questo ovviamente era abbinato parallelamente una moneta estremamente elastica. Cioè mi spiego meglio, quando le nostre imprese trovavano difficoltà per le esportazioni e quindi i magazzini erano pieni, si svalutava e con questo sistema, con questa tecnica si svuotavano i magazzini esportando ciò che era rimasto in stock. Con l'ingresso nell'euro il sistema è rimasto flessibile, quindi piccole e medie imprese mentre la moneta è diventata rigida perché non è più la Banca d'Italia e quindi l'Italia a decidere come e quando svalutare, ma è la BCE. Quindi questo ha comportato dei grossi problemi che se abbinati all'effetto globalizzazione quindi alla pressione esercitata da altre imprese che naturalmente mi riferisco alla Cina, all'India dove il fattore di competitività è costituito da un costo manodopera estremamente basso ed ecco che il nostro sistema produttivo va un tantino in tilt. Quindi come risolvere il problema? Non potendo modificare la struttura organizzativa e soprattutto la mentalità dell'imprenditore piccolo e medio dobbiamo essere noi ad adattarci e a creare le condizioni affinché questo produttore piccolo e medio possa agire e penetrare sui mercati internazionali. Da solo non ce la farebbe, non è organizzato, non ha una mentalità di internazionalizzazione, conosce molto poco i mercati internazionali e quindi bisogna trovare, creare delle aggregazioni. Questo è lo spirito per cui IBS Italia ha fatto una ricerca di mercato negli Stati Uniti soprattutto. Perché gli Stati Uniti? Abbiamo avuto anche altre richieste di collaborazioni nei paesi emergenti, mi riferisco a Pechino, quindi Cina, mi riferisco ai paesi arabi, all'India, anche alla Russia, ma bisognava avere un sistema produttivo dove la capacità reddituale media fosse tale da poter sopportare quello che è il costo dei prodotti italiani. E quindi entriamo nel merito di quello che è il progetto. Da quest'analisi cosa è venuto fuori? Che il reddito medio pro capite in quasi tutti gli Stati Uniti d'America, ma soprattutto negli Stati dove la capacità produttiva è maggiore, è di circa 50.000-60.000 dollari l'anno. Quindi c'è una capacità di spesa che consente al consumatore americano di poter sostenere dei costi relativamente ai consumi per dei prodotti che siano qualitativamente superiori e soprattutto che abbiano una tracciabilità. L'Italia e quindi il sistema produttivo italiano ha queste caratteristiche, cioè la capacità di offrire nei diversi settori di attività prodotti qualitativamente elevati e soprattutto tracciabili. Cioè le cronache hanno parlato qualche anno fa del parmesan. Il parmesan era un prodotto, un parmigiano fatto negli Stati Uniti, nel Connecticut, ma che ovviamente non aveva assolutamente le caratteristiche del nostro parmigiano. Quindi è stato importante fare capire al consumatore americano, attraverso tutto un processo di spiegazioni dall'origine al prodotto finito, che il vero parmigiano nasce in un'area, ha determinate caratteristiche e segue una sua fase, anzi diverse fasi, per arrivare a un prodotto finito qualitativamente superiore a tutte le altre imitazioni. Questo avviene ovviamente per il tessile, per la moda, per tutto ciò che è made in Italy. Molti parlano di made in Italy, però in realtà sappiamo bene che ci sono i veri falsi e i falsi veri, cioè nel senso che basta mettere un'etichetta del made in Italy, ma poi il prodotto in definitiva viene realizzato nella stessa Cina o nei paesi dell'Est. Quindi viene a mancare, a prescindere da quello che possono essere le valutazioni sulla qualità, viene a mancare la tracciabilità, cioè dalla materia prima, quindi dalla lavorazione addirittura della materia prima al prodotto finito. Quello che noi ci siamo proposti di fare è proprio questo, cioè offrire a un consumatore che ha capacità reddituale e quindi voglia di spendere, però di spendere bene, dei prodotti che siano qualitativamente superiori e tracciabili. In questa ricerca di un partner americano, perché era importante avere il partner giusto, l'ubicazione giusta, il mercato giusto. Dopo vari tentativi c'è stato un approccio con questa grossa organizzazione che si chiama Destiny USA e che fa capo a un personaggio molto facoltoso, nel senso che ha realizzato già 21 siti nello stato di New York e che non riguarda semplicemente la realizzazione di un mall, quindi di un grande centro commerciale, ma addirittura di un centro in cui ci saranno dei parchi, dei divertimenti, degli alberghi, delle sale convegni e soprattutto un sistema ecologicamente compatibile, cioè saranno utilizzate energie alternative, quindi senza assolutamente inquinamento. Il progetto ovviamente in una prima fase era stato proposto e presentato ad istituzioni italiane, ma ha visto l'assoluto disinteresse a un processo del genere, ci siamo dovuti necessariamente rivolgere al soggetto americano, il quale dopo una riflessione abbastanza lunga, sono passati sei mesi dalla proposta, ha accettato in pieno di realizzare una joint venture con IBS Italia. Il primo approccio è stato abbastanza difficile perché ovviamente pur avendo accettato l'idea progettuale definita unica dagli stessi americani, in realtà poi gli accordi sono durati parecchio, ma siamo arrivati alla conclusione, nel senso che è stato stipulato un accordo, quindi con la creazione di una joint venture tra, dico io, Davide e Golia, nel senso che un grosso imprenditore ovviamente ha abbracciato semplicemente una idea progettuale che scaturisce soltanto dal fosforo che è il nostro valore aggiunto e siamo in una fase di realizzazione. Perché i riflessi di natura economica? Direi un ragionamento abbastanza semplice, il progetto si rivolge a un mercato abbastanza ampio, parliamo di 300 milioni di abitanti, quindi dei consumatori che vanno assolutamente fidelizzati e che pretendono quella qualità e quella tracciabilità che deve essere loro garantita e deve essere loro garantita per 365 giorni. Una piccola e media impresa per poter fornire le proprie merci reggerebbe soltanto per una settimana, 15 giorni, quindi ecco la necessità di aggregare piccole e medie imprese nei vari settori di attività e di produzione, mi spiego un tantino meglio, 10 piccole e medie imprese molto probabilmente saranno capaci di fornire il prodotto alla molla, al centro commerciale per 365 giorni e quindi garantire una fornitura continua. Questo poi ovviamente ha uno sviluppo successivo, perché sarà il primo centro commerciale dedicato interamente al Made in Italy, ma successivamente, sempre d'accordo con il socio, possiamo definirlo così, americano, si prevede la realizzazione di altri centri commerciali in tutte le più importanti città americane. Perché abbiamo deciso di intervenire su Syracuse? Perché su Syracuse, che è una città posta nel nord dello Stato di New York, ci sono tutti gli ingredienti e tutti i presupposti per la buona riuscita dell'operazione. Infatti Syracuse è un'antica città dove convergono per lo stoganamento quasi tutte le merci provenienti dall'Europa soprattutto e dove c'è un incrocio di autostrade che collegano le più grandi città americane, quindi parliamo da Washington, D.C. a New York e col Canada. È una città baricentrica rispetto a un bacino d'utenza di circa 150 milioni di abitanti, è facilmente raggiungibile dalle altre città circostanti e soprattutto ha delle caratteristiche relativamente alla natura, quindi un flusso turistico eccezionale ed ha anche una importantissima università e questo ovviamente non guasta. Ma la decisione su Syracuse scaturisce anche da quello che è stata la disponibilità di una grande organizzazione come Destiny USA che sta realizzando appunto questa città commerciale, città dei divertimenti, città della cultura che dovrà essere inaugurata nel 2009. Quindi la scelta a natura economico-sociale per quanto riguarda le nostre piccole e medie imprese, ha natura commerciale e soprattutto di consumi per quanto riguarda il consumatore statunitense, ma è un primo sito che sarà realizzato perché già abbiamo in cantiere almeno altre due strutture del genere, sempre in joint venture con Destiny USA. Lo sbocco per le piccole e medie imprese, oltre ad essere garantito dal costituendo sito che sarà inaugurato il 1 aprile 2009, utilizzerà anche i 20 siti esistenti nello stato di New York. Quindi già viene garantita alle piccole e medie imprese la possibilità di poter vendere anche in questi siti esistenti. Quindi già è un mercato consolidato e che ovviamente mancava della parte made in Italy, quindi qualità e tracciabilità, perché in realtà il carousel center è già esistente, ma noi troviamo quello che normalmente si trova negli Stati Uniti, cioè i prodotti venduti da Mesis, da Walmart, cioè i classici centri commerciali che nulla hanno a che vedere con i nostri prodotti. Quindi in definitiva l'accordo dà questo sfogo alle nostre produzioni, dà la possibilità alla piccola e media impresa con economie di scala di poter entrare su un territorio e un mercato abbastanza difficile e soprattutto protetto, perché? Perché verrà meno quello che sono gli intermediari classici, e cioè l'agente e l'importatore che è un classico sistema di collocamento delle merci esistente attualmente negli Stati Uniti. Quindi ecco il motivo per cui la piccola e media impresa trova delle grosse difficoltà. Con questo sistema in realtà il produttore diventa anche venditore, perché salta tutta questa catena di intermediari estremamente costosi e che creano tra l'altro delle grosse difficoltà. Quindi se osservato e valutato attentamente sia sotto gli aspetti dei riflessi benefici che ha sulle piccole e medie imprese italiane che troveranno questo enorme sbocco, sia sotto l'aspetto della tutela di quello che è il patrimonio classico delle nostre imprese, cioè il made in Italy, ma il made in Italy inteso come prodotto fatto totalmente in Italia, il successo dovrebbe essere scontato. Almeno questa è la valutazione che è stata data da un grosso imprenditore esperto di settore, qual è Destiny USA. Naturalmente è chiaro che noi cureremo nei minimi particolari l'architettura del centro commerciale che è stato affidata ad un grosso architetto italiano che curerà tutti gli interni. Le imprese sono state già convogliate in un contenitore che sarà una SPA, quindi un consorzio, in cui confluiranno per avere un unico interlocutore nei vari settori di attività. Questa è una prima iniziativa che in realtà doveva essere appannaggio delle nostre istituzioni che sono preposte alla promozione di quello che è il made in Italy all'estero e mi auguro che possa avere il successo che noi tutti speriamo. Prima per premiare un po' lo sforzo fatto dalla IBS Italia in questo caso e soprattutto per premiare il nostro sistema produttivo che ritengo meriti ben alta attenzione. Grazie Grazie